Musica Un saluto a tutti e benvenuti nel consueto appuntamento Con il resoconto settimanale dei segnali di trading in abbonamento di The Trading Online Quello che vedete inquadrato è il post di riferimento del mese di maggio Andiamo quindi a vedere quello che è accaduto nella settimana appena conclusa dall'8 al 12 maggio Che ha visto nella giornata di lunedì un trade chiuso in perdita Nessun trade invece eseguito di martedì Di mercoledì un trade chiuso in profitto Così come è accaduto nei giorni di giovedì e venerdì Andiamo ora a rivedere quello che è successo nella scorsa settimana Con la prima settimana di maggio dall'1 al 5 Settimana che ha visto l'esecuzione di un unico trade Quello di venerdì 5 che si è chiuso in perdita Questo mese ha visto quindi 5 trade eseguiti sino ad oggi 3 in profitto e 2 in perdita Vi ricordo che il primo mese del servizio di segnali di trading in abbonamento Di The Trading Online è in offerta a 15 euro È tutto per quanto riguarda questa settimana Vi ringrazio per l'attenzione Vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima settimana